Un onore di conoscere, la guideremo durante il tour del nostro istituto. Perfetto! È essenziale tutti quando stai male. Abbiamo fatto questa scuola d'estate che è evidentemente il luogo in cui si ritrova la socialità, gli amici, le persone, perché la scuola è questa, ma anche tante competenze. È quasi una prova generale di una nuova scuola, quella scuola della fettuosità che ho sempre detto. È bello tornare a scuola, anche se è d'estate, anche se è con 30 gradi, però è sempre bello vedere i compagni, gli insegnanti tornare a scuola. Ragazzi, posso fare una cosa? Grazie a voi! Grazie a voi! Grazie a voi!